E-online Geosit Altamura, il nuovo geoportale del sistema informativo territoriale comunale, il primo open data che sarà il punto di riferimento per la raccolta, la classificazione e la distribuzione dei dati territoriali. Nasce dall'esigenza di monitorare le attività di aggiornamento del catastro delle cavità sotterranee, con verifica e gestione del piano di bonifica e registrazione dello stato delle bonifiche stesse. Questo progetto nasce per censire in maniera precisa tutte le cavità sotterranee presenti in Altamura, ma è anche finalizzato a archiviare una serie di dati di carattere urbanistico, di carattere relativo alle opere pubbliche in corso di esecuzioni, delle aree interessate dai incendi boschivi, dal censimento del patrimonio rurale, elementi che consentono una conoscenza più approfondita del territorio di Altamura. Il portale è corredato da tante funzionalità legate agli aspetti urbanistici utili ai cittadini. Tutti gli strati cartografici legati alle cavità sotterranee, quindi lo stato dei luoghi, inoltre possono consultare gli strumenti urbanistici, dal PRG ad altri piani subordinati, per poterli consultare in maniera contemporanea, e possono anche generare una serie di certificati di destinazione delle particelle catastali, in modo da poter avere una visione dell'assoggettamento della particella catastale rispetto ai piani urbanistici. Noi stiamo portando in trasparenza molta parte dell'amministrazione in generale e degli uffici in modo particolare, soprattutto per quanto riguarda gli uffici urbanistici, gli uffici dei lavori pubblici, è un importante traguardo perché ad Altamura abbiamo ancora il problema della fogna bianca e che noi stiamo cercando di attivarci per risolverlo.